Si può affermare che Pasolini vive storicamente per l'accumulazione e che il suo conoscere non dialettico è dovuto all'eterna coesistenza degli opposti. L'attualità del libro sussiste unicamente in un'esplosione più o meno generosa, più o meno felice, di vitalità. Dopo le recette di pubblicazioni critiche, Donaldo Di Poce ci regala questo aureo passionale e competente libro di critiche letterarie su Pasolini.